Siamo di nuovo qua, io sono sempre Carlo Lucarelli, questa è Radio DJ e questo è sempre Di Giallo e questo è un altro mistero che ha a che fare con il mondo della musica. Questo è un mistero molto particolare perché questa è una storia di immortalità. Questa è la storia della morte, forse, di Jim Morrison. Il problema delle persone che colpiscono, delle persone che lasciano un segno, è sempre quello dell'immortalità. Come si fa a provare tanta ammirazione, per esempio, verso una persona? O meglio ancora se è un personaggio, cioè se è qualcosa di più, se è qualcosa di inventato in un certo senso, di un mito. Come si fa a provare tanta ammirazione, tanto amore, tanta passione e poi pensare che questa cosa possa finire? Gli amori normali, gli amori tra le persone comuni, non possono sopportare la perdita della persona amata. Funziona con la gente normale figurarsi se non funziona anche con le rock star, per esempio. Allora lui, quello che muore in questa storia, è una rock star. Lui è bello, è giovane, è maledetto, è un poeta e fa parte di uno dei gruppi più grandi della storia del Rocky Dorf. Come si fa a pensare che uno così, uno come Jim Morrison, sia morto per davvero a Parigi, il 2 luglio del 1971? C'è un appartamento che si trova al quarto piano del numero 17 di un palazzone ottocentesco nel centro di Parigi. Nell'appartamento ci interessa una stanza, una in particolare, che è la stanza da bagno. Dentro questa stanza da bagno c'è Jim Morrison, nella vasca, nudo, immerso per metà. Le braccia sono fuori e la testa è piegata di lato su una spalla. C'è la sua ragazza, Pamela, che è entrata in bagno, l'ha vista così e pensa che stia scherzando. Fino i conti, è un tipo strano Jim Morrison. Agli occhi chiusi, va bene, però se ne sta in una posizione così naturale e tranquilla, lei lo chiama, ma lui non risponde. E allora, va bene, forse sta scherzando, sta fingendo. Cosa vuoi che sia successo a uno come Jim Morrison? Jim però, attenzione, continua a non rispondere, continua a tenere gli occhi chiusi. E allora a quel punto Pamela, dopo un po', capisce che sì, è successo qualcosa. Jim è morto. Ma di cosa? In un primo momento non si sa neanche che è morto, per esempio. Perché i suoi amici lo sanno più tardi, qualche giorno più tardi. Quando arrivano a Parigi, lui è già stato sepolto. I genitori non riescono a vedere il suo corpo, non fanno in tempo a vederlo neanche i suoi avvocati e neanche il suo manager, Bill Siddons. Lui però si rifiuta di andare a vederlo, ha paura di rimanerne impressionato. Insomma, alla fine, gira e rigira, delle persone che lo conoscevano, l'unica ad averlo visto morto è la sua ragazza, Pamela. Lei è il medico di Parigi che viene chiamato quella notte tra il 2 e il 3 luglio, il dottor Max Basile, il quale ha certificato che la morte di Jim deve essere attribuita a cause naturali. Infatti, nel certificato di morte, c'è scritto così. Cause naturali. Jim Morrison è il cantante dei Doors, è il re Lucertola, come veniva chiamato dai versi di una sua poesia che stava scritta sul retro di una copertina di Waiting for the Sun, uno dei loro album. È una leggenda vivente, è un poeta, è un artista. Però non è soltanto quello. Attenzione, è Jim Morrison, è il figlio maledetto del rock. È quello che in televisione canta una versione quasi porno di Light My Fire, che è una canzone dei Doors, a Lady Sullivan Show. È quello che si è fatto arrestare a Miami per aver mimato una masturbazione durante un concerto. Insomma, è una rock star, una rock star maledetta. Ora, quando una rock star così maledetta, anche se così amata naturalmente, muore all'improvviso, beh, viene normale farsi qualche domanda. Invece no, in questo caso no. Jim viene sepolto in fretta e furia nel cimitero di Perlachet a Parigi, un cimitero bellissimo in cui riposano grandi personaggi come Charles Baudelaire e Oscar Wilde. Ora, dovrebbe finire tutto lì? C'è una bella lapida che dice James Douglas Morrison, poeta, cantante e compositore? Invece no. E invece no, proprio perché è Jim Morrison. C'è qualcuno che non ci crede. I giornalisti, per esempio, i soliti maliziosi, si chiedono perché tanto silenzio? E perché così in ritardo sono state divulgate le notizie sulla morte di Jim Morrison? C'è un medico, il medico personale di Jim, che si chiama Dottor Derwin, che dice che il suo paziente godeva di ottima salute, per quanto può essere ovviamente una star come Jim Morrison, che beve, fuma e assume un po' di tutto, tranne l'eroina. Perché è una crisi cardiaca? E poi, si chiedono i maliziosi, perché non è stata eseguita l'autopsia, come succede di solito in Francia, quando ci sono morti sospette? Perché quella di Jim, per quanto naturale possa essere, è una morte sospetta, così all'improvviso, nella vasca da bagno. Allora ci si chiede, cosa può essere successo? Quale può essere la spiegazione della morte di Jim Morrison? Ci sono varie ipotesi sulla morte di Jim Morrison. Alcune sono strane e bizzarre, altre sono folli. Ce n'è una, che è abbastanza folle, che attribuisce la morte di Jim Morrison ad un complotto, ordito naturalmente dalla CIA. Ci sarebbe una sezione particolare dei servizi segreti americani, una sezione segretissima, di cui non si conosce neanche il nome, incaricata di uccidere le rock star sovversive. Guarda un po', fanno notare, in quei mesi muoiono anche Janice Joplin e Jimi Hendrix, oltre a Jim Morrison. Ma non solo, c'è anche un testimone della morte di Jim Morrison, l'unica ad averlo visto, praticamente, che è Pamela, la sua ragazza. Anche lei muore di overdose nel 1974, ad Hollywood. Chi è stato? La sezione speciale della CIA che lotta contro le star sovversive? C'è un'altra spiegazione? Anche questa è abbastanza strana, e abbastanza folle, mette in relazione la morte di Jim Morrison con le sue credenze esoteriche. Certo, tutta la sua ispirazione artistica si era sempre mossa nel solco di poeti decadenti, visionari come Baudelaire, Rimbaud, William Blake. La band di Jim Morrison si chiama The Doors, le porte, per un motivo molto particolare. C'è un verso di Blake, quando le porte della percezione sono spalancate, le cose appaiono come veramente sono, infinite. Lo stesso Jim Morrison diceva che quello che faceva con i Doors non era soltanto suonare, non erano soltanto concerti loro, erano proprio esperienze mistiche, dicevano, riti di massa, che rendevano lui, i musicisti della band e la gente che ascoltava, partecipi della creazione del mondo. Beh, da resto così fanno gli artisti. Prendono tutti e diventano partecipi della creazione del mondo, non c'è niente di speciale. Però per qualcuno Jim era andato ancora più in l'aria, diventato uno sciamano, era uno stregone indiano. Lo era diventato da quando, da bambino, aveva visto uno spaventoso incidente d'auto nel New Mexico. Un autocarro che trascoltava un gruppo di indiani si era sfracelato sull'autostrada. Lui, il piccolo Jimmy, se n'era stato lì, a guardare, tutti quei corpi e tutto quel sangue. Era stato iniziato, dice qualcuno, ai riti orfici. Beveva sangue umano assieme ad una sua amica strega, beveva sangue dei ragni, è per questo che è morto, dice una spiegazione. Qualcuno l'ha ucciso con un incantesimo. Oppure, il suo spirito guida, l'ha abbandonato, lasciandolo morire, lì, in quella vasca da bagno, solo con il suo corpo. E se invece Jim Morrison non fosse morto, ma fosse ancora vivo? Ce ne sono parecchi che lo pensano. Lui ci scherzava su, sulla sua morte, molte volte, faceva delle ipotesi su cosa sarebbe successo dopo. Addirittura nel 1967 aveva anche provato a mettere in giro la notizia del suo decesso, per vedere cosa sarebbe successo, e anche per motivi pubblicitari. Così, dopo che Jim Morrison è morto, c'è chi lo vede nei primi anni 70, per esempio, mentre riscuota segni in una banca di San Francisco. Poi c'è qualcun altro che dice di aver ricevuto una telefonata da lui, proprio da lui, Jim Morrison, in persona, che così si dichiara, poi lo conosce. La linea però è molto disturbata, non si sente bene la voce. C'è qualcuno che dice di averlo incontrato nella vecchia casa di Baton Rouge, dove Jim Morrison viveva, nudo, seduto su un trono. E poi c'è una donna che dice che avrebbe addirittura vissuto con lui per qualche anno, come sua fidanzata. E poi c'è un signore, uno scrittore francese, che si chiama Jacques Rochard. Lui dice di averlo incontrato nel 1980, quindi quasi dieci anni dopo la sua morte. Sono stati assieme per qualche mese, a Parigi. Jim gli ha anche detto che aveva inscenato la sua morte per fuggire da quel mondo caotico e assillante, quello della musica, quello delle rock star, e per potersi dedicare alla poesia con la tranquillità dell'anonimato. C'è scritto anche un libro, questo Rochard, che si chiama appunto Vivo. C'è qualcosa di vero e di attendibile in tutto questo, nell'ipotesi di una morte misteriosa, per esempio, o nell'ipotesi addirittura che Jim Morrison sia ancora vivo. Si tratta soltanto di pretesti per evitare una sorta di elaborazione del lutto, pensare che sia morto, banalmente, come tutte le persone muoiono, e riuscire così a coltivare una illusione, bella e affascinante come tutte le illusioni. È morto in un modo eroico, strano, oppure misterioso, oppure è ancora vivo. Non è più banale pensare in un modo banalmente scientifico che sia morto per un edema polmonare provocato dalla commissione di alcol, droga, così dicono i referti medici, in un periodo di particolare stress emotivo e fisico come quello che lo aveva portato appunto ad affittare quell'appartamento a Parigi per tassene un po' nascosto, lontano dalla vita da Rockstar. È sicuramente più banale, una spiegazione più scientifica naturalmente, ma molto più banale. Jim Morrison non è l'unico a non essere morto dopo la sua morte, proprio perché ci sono le ipotesi che sia ancora vivo. E si è detta la stessa cosa di Marilyn Monroe, per esempio, di Elvis Presley o anche di John Lennon e di tanti altri. Si è sempre detto hanno inscenato la loro morte per togliersi di torno, perché erano troppo sotto pressione, troppo sotto i riflettori, perché non avrebbero mai potuto nascondersi persone così famose. Hanno inscenato la loro morte, così si sono estinti e hanno potuto riciclarsi sotto falso nome, nascosti da qualche parte. James Douglas Morrison era nato nel 1943. Se fosse ancora vivo oggi avrebbe più o meno 64 anni. E ci sono anche alcune foto che lo ritraggono con una folta barba da poeta, da poeta maledetto. Ecco, forse basta prendere quelle foto, imbiancare la barba e riusciremo ad immaginare come potrebbe essere ora. E più o meno come potrebbe essere per sempre. Perché se uno come Jim Morrison non è morto quando doveva morire, quando tutti lo hanno visto morto, allora possiamo anche pensare che non morirà più. Se morirà nascosto da qualche parte non lo sapremo mai ed ecco che Jim Morrison, come tutti gli altri, è diventato immortale.